Siamo arrivati, Giovanni, aspettiamo te. Sto abbonando, Giovanna. Siamo giunti, figlione. È arrivata l'ora di separarci. Da questo momento ognuno andrà solo per il mondo a predicare. Padre, per quale via dobbiamo rientrare? Per quella che ci indicherà il signore. E come faremo a conoscere la volontà del signore? Io vi comando, per santa obbedienza, che voi vi aggeriate nel luogo dove tenete i piedi, come fanno i fanciulli per gioco, e che non restiate a rivolgervi su voi stessi finché non vi girerà la testa. Ma non ti gira la testa? No? Non ti gira ancora? No? Ma ti senti bene? Ora mi giro. Vieni, Giovanni, vieni. Vieni. Ah, mi giro la testa. E tu, Amatia Pena, in verso dove sei caduto? E in verso Sira, come me. E tu, Bernardo? In verso Girelli. E tu, Ginetta? In verso Arezzo. E tu, Elia? In verso Pisa. E tu, Ruffino? In verso Spoleto. E tu, Ginetta? In verso Polino. E tu, Giovanni, in verso dove sei caduto? Oh, è in verso là dove c'è quel pringuello che è saltato sull'erba. E tu segniterai quel pringuello che è certamente la via che ti ha indicato il Signore. Or su, figli miei, pargetevi per il mondo e predicate la pace. Adesso. Or su, figli miei, pargetevi per il mondo e predicate la pace. Or su, figli miei, pargetevi per il mondo e predicate la pace.